Ho trovato questo motore elettrico asincrono trifase Ercole Marelli che era stato buttato per la rottamazione. L'ho portato a casa, l'ho ripulito, dentro c'erano perfino i nidi delle vespe. L'ho ripulito, l'ho restaurato e sono riuscito a farlo ripartire. Ci ho messo anche la targhetta e poi ci ho messo questo interruttore che è Ticino che è ad epoca anche questo. Ci ho messo un deviatore per invertire il senso di marcia e per far ripartire con la corrente di casa questo questo motore serve un condensatore. Ho fatto tutto questo e poi ecco vediamo il risultato. Questo se io accendo questo gira nel senso orario, lo spingiamo, ecco qua aspettiamo che si ferma e poi invertiamo il senso di marcia, lo riaccendiamo e lui gira il senso orario. Tutti mi dicono che ci fai? Non ci faccio niente, è solo per la passione e per sistemare le cose d'epoca buttate e farle ripartire. Ecco qua ecco, ormai questo di qui lo terrò, mi stanno dicendo se lo trovi da vendere lo venderai. No ormai questo lo tengo, lo tengo per me.